Allora come promesso nell'ultimo video dove abbiamo introdotto l'argomento sulle simulazioni ad eventi, oggi ci occupiamo di un primo esempio, un esercizio in cui proviamo effettivamente a implementare il nostro primo simulatore, chiaramente sarà un esercizio abbastanza semplice con il quale provare a mettere in pratica quelli che erano i concetti fondamentali che abbiamo visto nei lucidi della scorsa lezione. Per farlo io ho preparato un piccolo esempio dove c'è già il progetto disponibile chiaramente su GitHub, io qui ho riportato nel progetto GitHub semplicemente la spiegazione del testo che trovate esattamente sulle slide, quindi esattamente il stesso contenuto, possiamo guardarlo su Eclipse, possiamo guardarlo sulle slide, è identico. Allora ciò che vogliamo fare è sviluppare un simulatore che possa, diciamo così, permetterci di studiare il comportamento di un servizio di car sharing, noleggio auto essenzialmente. Quindi noi abbiamo un luogo in cui sono disponibili un certo numero di auto a noleggio, un deposito essenzialmente, e supponiamo di conoscere il numero di auto totalmente, il numero totale di auto a disposizione e chiamiamolo in questo caso NC, NC per number of cars, quindi numero di auto. di auto. Quindi in questo noleggio noi ipotizziamo che ci siano dei clienti che arrivino con una certa periodicità, con una certa frequenza. La cosa più semplice che possiamo immaginare è che un cliente arrivi un cliente nuovo o ogni certo numero di minuti, chiamiamo TING questo numero di minuti e quindi ipotizziamo un flusso di clienti, forse un po' irrealistico, cadenzato esattamente nel tempo. Qui stiamo ipotizzando quindi un modello deterministico dell'arrivo di nuovi clienti, che è meno realistico di un modello stocastico, ma come sempre, come dicevamo, è per iniziare essenzialmente. Allora, cosa succede quando un cliente arriva nel noleggio auto? Ovviamente arriva per noleggiare un'auto e ci saranno due casi possibili. Ci sono ancora auto disponibili oppure non ci sono più auto disponibili, ovviamente. Se ci sono auto disponibili, a questo cliente verrà data un'auto, lui potrà partire, andare a fare un giro e poi più tardi, ovviamente, quest'auto verrà restituita. Se non ci sono più auto disponibili, invece, ovviamente, il nostro cliente se ne andrà via non soddisfatto. Quando il cliente prende un'auto, noi ipotizziamo di conoscere, o perlomeno a scopo della simulazione, non ipotizziamo di conoscere l'orario in cui la restituirà. Quindi lui prende in auto, in prestito, e la restituirà dopo una certa durata, che è qui indicata con la costante di travel, il tempo di viaggio. Cosa vuole fare il simulatore? Beh, ovviamente io che voglio costruire questo sistema di noleggio auto, vorrò sapere quante auto devo comprare. Quindi, in funzione del parametro di arrivo dei clienti e del tempo di viaggio, voglio sapere quanti clienti non soddisfatti avrò, quanti clienti dovrò mandare via non soddisfatti, e questo sarà il valore che devo calcolare. Quindi voglio calcolare il numero di clienti non soddisfatti alla fine di ogni giorno. Quindi io simulo una giornata, ecco, questo forse non l'avevo detto prima, per semplicità questo car sharing lo simuliamo su una giornata sola. Quindi immaginiamo che a fine giornata tutte le auto siano all'interno del noleggio stesso, siano state restituite al noleggio. Quindi il giorno dopo si riparte da capo, essenzialmente, con il meccanismo. Il numero di clienti non soddisfatti ovviamente sarà una funzione del numero di auto totali che ho, che è poi l'investimento che devo fare, ma ovviamente sarà anche una funzione del tasso d'arrivo dei clienti e della durata dei viaggi di questi clienti. Quindi questi sono i parametri su cui stiamo giocando. Allora, il testo ci dice che a livello iniziale possiamo fare l'ipotere che un cliente arrivi ogni 10 minuti e il tempo di viaggio di un cliente possiamo assumerlo come una variabile stocastica che in modo casuale sia definita come un'ora, oppure due ore, oppure tre ore. Quindi quando un cliente arriva e trova un'auto, questo cliente sappiamo, simuleremo che questo cliente riporti l'auto dopo un valore di tempo che con uguale probabilità può essere di un'ora, oppure di due ore, oppure di tre ore. Questo è ciò che vogliamo simulare in questo scenario. Capite che con questa randomicità del tempo di viaggio diventa difficile riuscire analiticamente a fare i conticini e dire ma qual è la probabilità che un cliente alle ore 13 arrivi e trovi un'auto disponibile, sapendo che i clienti arrivano 10 minuti, perché dovrò fare un calcolo che vada a combinare le probabilità dei vari tempi di viaggio di tutti i clienti che sono arrivati dalle 8 di mattina in avanti essenzialmente, per sapere se poi questi a loro volta hanno preso le auto oppure no. Quindi diventa molto difficile trattare questo problema che è semplicissimo in modo del tutto analitico, in modo del tutto matematico e per questo noi ci affidiamo essenzialmente alla simulazione algoritmica. Se vogliamo calare questo nel framework che abbiamo definito, noi avevamo la classe simulatore che si avvaleva di due strutture dati essenzialmente, la coda degli eventi e il modello del mondo. La coda degli eventi era caratterizzata, è semplicemente una coda prioritaria, caratterizzata da un tipo di eventi che devo poter definire. Quindi quali sono le tipologie di eventi che possono accadere in questo simulatore, in questo sistema? Io ne ho identificati due, che ho elencato qua. Un evento è quando arriva un nuovo cliente, cioè fino a quando non arriva un cliente e non succede nulla. Quando arriva un cliente allora succedono delle cose. Succede che questo cliente può essere non soddisfatto oppure succede che questo cliente esce con l'auto e quindi di fatto in garage avrò un'auto in meno nel mio deposito. Questo quindi è un evento che cambia lo stato del sistema. E tra l'altro noi sappiamo che questi, come l'abbiamo definito prima, in questa prima approssimazione i clienti arrivano esattamente ogni dieci minuti. Oppure c'è un altro tipo di evento, cioè il cliente restituisce un'auto. Quindi in questo caso abbiamo semplicemente due eventi. Arriva un cliente che può prendere o non prendere un'auto a seconda che noi ne abbiamo ancora a disposizione o no eppure il cliente restituisce l'auto e che a questo punto ritornerà disponibile per il prossimo cliente che arriverà. Abbiamo solamente questi due eventi per il momento da simulare. E questi eventi si serviranno per far evolvere il modello del mondo che è essenzialmente costituito da una variabile che ci dice quante auto ho ancora nel mio deposito. Cioè io so ovviamente quante auto ho in totale ma questa è una costante, è un parametro di simulazione quindi non evolve, fa parte del modello del mondo ma non evolve perché è fissa ma ho anche il numero di auto disponibili in quell'istante di tempo. Ecco, gli eventi di arrivo cliente e di restituzione di auto sono eventi che vanno a modificare il numero di auto disponibili. Poi in realtà il modello del mondo terrà anche traccia delle informazioni che mi interessano cioè il numero totale di clienti che sono arrivati e il numero totale di clienti che non sono soddisfatti. Questi ovviamente mi servono per calcolare l'output del simulatore l'informazione che è utile all'utente ma non servono, diciamo così, internamente per far evolvere il sistema. Quindi questo è, diciamo così, una versione minima minima nel senso che abbiamo un modello del mondo che si regge su una sola variabile intera il numero di auto presenti e una coda degli eventi che si basa su eventi di due tipi solamente quindi meno di così direi che non riusciamo a fare. Questo è un po' il quadro. Io ho provato a cominciare a immaginare che questo simulatore esista già e ho provato a scrivere un programma di test per poterlo lanciare. Quindi all'interno del progetto base che trovate, diciamo, su GitHub c'è una classe di test, test simulator che istanzia una classe simulator che in realtà non esiste ancora perché se vado a prendere la classe simulator è vuota e quindi ce la dobbiamo scrivere insieme in questa lezione istanzia una classe simulator e ad un certo punto chiamerà un metodo run affinché il simulatore faccia il suo lavoro e valuti l'evoluzione di questo scenario. Prima del metodo run abbiamo dei metodi per impostare i parametri di simulazione cioè ad esempio il numero di auto totali che ci sono presenti nel deposito e la frequenza con cui i clienti arrivano. In questo caso per fargli precisino o anziché mettere 10 come numero intero ho usato un oggetto di tipo duration che di fatto è, diciamo così, il tipo di java.time che indica gli intervalli di tempo. Così faremo già un po' di aritmetica con i time anziché farla con i numeri interi poi ricordandoci che devono essere minuti piuttosto che ore per non confonderci. Quindi usiamo direttamente i tipi di dati qualificati sul tempo. Ho ipotizzato questi due metodi magari poi dovremmo aggiustarli se ci accorgessimo che non dovesse andare bene perché questa è solo un'ipotesi di come potrebbe funzionare il simulatore ma devo ancora costruirlo. E poi, quindi, lancio la simulazione vera e propria che simulerà la giornata di lavoro di questo noleggio e alla fine, dopo la simulazione chiederò al simulatore ma senti, ma allora quanti clienti sono arrivati? E di questi, quanti erano non soddisfatti? E quindi poi posso stamparlo e riuscire. Quindi questo qua è il mio contratto che voglio onorare cioè questo, il mio cliente, il mio main ha bisogno che io offra questi metodi. Sapendo questo, entriamo ovviamente nel simulatore vero e proprio e cominciamo a implementarlo. Allora, il simulatore quindi all'interno avrà come struttura dati principale quella di una coda prioritaria. Questo l'avevo già visto magari ingrandisco l'immagine così visto che entriamo nel vivo del codice riusciamo a vederla meglio. Avrà come struttura dati principale una coda prioritaria. Una coda prioritaria fatta di eventi di eventi di simulazione. Allora, conviene definire una classe evento separata event che ci serve per rappresentare il singolo evento di simulazione. Allora, avevamo detto che un evento è costituito almeno da due campi che sono sempre presenti più eventuali altri campi che la simulazione potrebbe richiedere. I due campi che sono sempre presenti sono il tempo e il tipo di evento. Quindi la marcatura temporale che in questo caso sarà una variabile di tipo local time stiamo misurando una sola giornata e quindi non ci interessa la data ci interessa solamente l'orario e poi un tipo di evento. Un tipo di evento che può essere di due tipi diversi. Allora, per questo un modo comodo per non chiamare questi due tipi di eventi uno o due oppure chiamarli cliente arriva auto restituita sotto forma di stringa la cosa più comoda da fare potrebbe essere quella di definire ad esempio una enumerazione in Java. Quindi in Java esiste questa classe particolare che si chiama enumerazione che è pensata proprio per inserire una serie di costanti per definire una serie di costanti definite dall'utente. Questa enumerazione la posso definire anzi io preferisco definirla all'interno della classe event quindi di fatto è una classe annidata all'interno di un'altra classe perché alla fine queste costanti in realtà mi servono solamente in questo specifico contesto. Quindi io definisco una enum public enum di tipo event type la chiamo event type quindi anziché una classe uso la parola chiave enum enumerazione anziché classe e questo mi definisce una classe iper semplificata che essenzialmente ha solamente un elenco di costanti che possono essere definite in realtà nell'enum è poi anche possibile definire dei metodi ma diciamo in questo caso non ci serve e quindi elenchiamo delle costanti che sono in questo caso diciamo new client le scrivo tutte maiuscole perché è la convenzione java per indicare le costanti e l'altra costante potrebbe essere car returned che sono i due eventi che stiamo modellando quindi anziché usare delle costanti numeriche 1, 2, 3 usiamo delle costanti simboliche poi in realtà cosa succede che il compilatore java convertirà new client in 0 e car return in 1 quindi alla fine stiamo usando dei numeri interi 0 e 1 ma ovviamente a livello di leggibilità del codice è molto meglio leggere new client piuttosto che leggere 0 allora questo è semplicemente una dichiarazione di costanti l'ho messa qua dentro perché così questo event type fa parte solamente della classe evento però l'ho definita come public per cui chiunque può andare a leggere utilizzare queste classi queste costanti e di sicuro il simulatore avrà bisogno di vederle per processare gli eventi ok fatto questo definisco qual è il tipo cioè il contenuto gli attributi della classe evento avevamo detto quindi avrò attributi privati che ci sono dovranno essere sempre due uno è il tempo di simulazione quindi lo definirò come local time local time local non local ovviamente java.time punto local time e non local date time ma local time e qui mi va in portale cose sbagliate ok e ovviamente avrò il tipo di evento private event type type quindi questi sono i due attributi che avremo sempre avremo sempre all'interno degli eventi poi in esercizi più complessi probabilmente dovremmo definire anche altri dati associati a un singolo evento ma adesso il fatto che arrivi un cliente non abbiamo altre informazioni da aggiungere in un sistema complesso magari potremmo vedere se quel cliente ha prenotato oppure non ha prenotato oppure vuole un'auto di lusso un'auto economica allora queste sarebbero altre informazioni che si associerebbero all'arrivo di un nuovo cliente in questo caso no nel senso che abbiamo solamente i clienti indistinti e abbiamo solamente un tipo di auto quindi al momento non vedo motivo per aggiungere altre informazioni all'interno della classe event la cosa a questo punto importante vabbè dobbiamo completare la classe aggiungendo un costruttore aggiungendo un get resector per i vari campi ma questo qui diciamo così è ordinare amministrazione e soprattutto dovremo definire qual è il criterio di ordinamento di questi eventi questi andranno a finire in una cosa prioritaria quindi è fondamentale che siano ordinati quindi devono implementare questa classe event deve implementare l'interfaccia comparable su event ovviamente implementare l'interfaccia comparable significa aggiungere il metodo compareTo che abbiamo fatto aggiungere diciamo così dai clips dicendo di completare i metodi non ancora implementati quindi confronta questo con un altro questo evento con un altro evento e dovrà restituirmi un valore che mi mette diciamo così in ordine in quale ordine in ordine di tempo gli eventi quindi alla fine dovrò semplicemente dis.time punto compareTo delego a dis.time other.time quindi questo è un comparatore che delega normalmente ormai i micrani delega li abbiamo imparati bene all'attributo time time le variabili di tipo localtime sanno benissimo come confrontarsi una con l'altra quindi non ho bisogno di andare a convertire i millisecondi e poi confrontarli deleghiamo al comparatore di time e quindi dei vari attributi della mia classe evento l'unico attributo che viene usato per fare confronti è l'attributo time non ho qui non sto definendo invece equals o hash code vediamo se mi servirà li introdurrò però mi risulta molto difficile definire un equals avendo solamente questi attributi perché è perfettamente lecito che due clienti possono arrivare allo stesso identico tempo e quindi non vuol dire che se un cliente 1 arriva alle ore 10 e un cliente 2 arriva anche lui alle ore 10 sia lo stesso evento no sono due eventi diversi che capitano in istanti di tempo coincidenti quindi al momento io non mi sento di definire un equals che lavori sul parametro time se dovessimo distinguere tra eventi diversi e definire un equals dovremmo avere degli altri attributi sulla base dei quali fare questa distinzione ma al momento non dobbiamo mettere questo in nessun insieme in nessuna mappa quindi l'ashcode non ci serve e i confronti la coda prioritaria li fa solamente sulla base dell'ordinamento quindi solamente sulla base del comperto ok questo è il nostro tipo di evento molto semplice a questo punto lo usiamo nella mia classe simulatore la classe simulatore avrà come struttura dati principale la coda degli eventi quindi avrà una priority queue un oggetto priority queue che ovviamente è personalizzato con la mia classe evento event event eccolo qua attenzione di prendere il nostro evento cioè da noleggio.model altre classi che si chiamano evento ovviamente è un concetto talmente ampio che è definito in molte librerie quindi chiamano queue uguale new priority queue non più che ho scritto priority queue priority queue eccolo qua ovviamente qui sto creando una coda degli eventi vuota vuota che non contiene per ora non contiene nessun nessun evento e poi avrò quindi questo qua il primo tipo di variabili il simulatore gestirà delle variabili che sono la coda degli eventi il simulatore dovrà gestire altri tre tipi di variabili che sono i parametri di simulazione che sono il modello del mondo così l'abbiamo chiamato così continuiamo a chiamarlo e che sono i valori da calcolare i valori in uscita che il simulatore deve calcolare questi sono tre gruppi di variabili concettualmente diverse sono tutte variabili di distanza del simulatore ma hanno scopo diverso allora i parametri di simulazione quali sono i parametri di simulazione sono il numero totale di auto private int nc si chiamava number of cars poi abbiamo il tempo di arrivo che veniva chiamato team quindi intervallo tra i clienti e basta per il momento nel senso che l'altro parametro di simulazione in realtà è una costante che era il tempo di viaggio che era quel valore stocastico vediamo poi dopo come trattarlo ovviamente questi parametri di simulazione dovranno essere impostabili dall'esterno quindi dovrò avere sicuramente dei setter per lo meno per poter impostare questi valori anche se non dei getter perché magari non ho bisogno di leggerli ma sicuramente avrò bisogno di scriverli sono questi parametri che vado a impostare prima della simulazione stessa ecco mi sono d'accordo andando a vedere il simulatore che ovviamente questo intervallo per clienti non deve essere un int ma deve essere un local time una duration scusate cioè la durata dell'intervallo tra cui arrivano i vari clienti java.time ecco qua ovviamente non è un intero ma è un tempo sì un intervallo tra i vari clienti ok fatto questo converrà decidere ovviamente abbiamo questi metodi che avevamo visto metodi per impostare i parametri e quindi ce ne sarà uno che è un metodo public la quale avevamo chiamato setnumcars quindi setnumcars di n che non farà altro che fare un bel this punto nc uguale n e così come potremmo avere public void così come potremmo avere l'altro metodo che nel simulatore qua avevo chiamato setclient frequency public public void set client frequency che riceve una duration di e mi imposta il mio this punto thing esattamente al valore della duration che riceve un ingresso scusate questo n devo dire che è un intero ok ovviamente qui l'ho scritto a mano non si che farmi generare eclipse semplicemente perché il nome del metodo non era semplicemente setnc o settin ma avevamo già deciso che si dovesse chiamare in un modo diverso perché altrimenti basterebbe farsi generare normalmente il setter e poi ovviamente quindi il client adesso vediamo che per fortuna queste due è scomparso diciamo il segno rosso che diceva che le funzioni non erano definite adesso queste funzioni esistono qui stiamo ci stiamo fidando del fatto che prima di chiamare il metodo run il mio main il mio chiamante si ricordi di chiamare questi due metodi perché altrimenti il simulatore partirà con un valore di nc pari a 0 e una duration pari a null a me non piace tanto rischiare in un certo senso che la simulazione parta per non senza avere tutte le informazioni che gli servono quindi converrà sempre inserire un valore di default ad esempio 10 il valore di default della duration sarà anche lì una duration duration punto ov mettiamo anche qua 10 minuti a minus deve essere qualificato crono units punto minuti ok semplicemente qua impostiamo un valore di default in modo che se per caso il chiamante il main si dimenticasse di chiamare set number of cars la simulazione non si blocca con uno 0 ma parte comunque con un valore sensato questo 10 ad esempio ok quindi definiamo un valore di default perché magari immaginiamo un simulatore più complesso magari ha 30 parametri diversi e il programmatore che vuole simulare un scenario magari ha bisogno solamente di variare tre di questi parametri e gli altri e tutti gli altri li lasciamo a un valore predefinito quindi in modo protettivo il simulatore si auto inizializza già i parametri a un valore di default sensato se poi l'utilizzatore del simulatore lo vuole modificare lo farà chiamerà i metodi setter prima di eseguire la simulazione vera e propria ok passo successivo il modello del mondo il modello del mondo in questo esempio abbiamo detto che era molto semplice perché era semplicemente rappresentato dal numero di auto ancora disponibili quindi sono private int auto n auto disponibili qui non abbiamo bisogno di inizializzarlo perché chiaramente è un valore che verrà inizializzato all'interno della simulazione stessa quindi auto disponibili nel deposito che ovviamente sarà compreso tra 0 e nc 0 quando sono tutte fuori e nc quando sono tutte in deposito e basta essenzialmente in questo esercizio l'unica parte del modello che ci interessa è questa valori da calcolare i valori da calcolare sono il numero di clienti arrivati e il numero di clienti insoddisfatti e sono due valori che il simulatore calcola e dovrà fornire all'esterno quindi qua dovremo aggiungere almeno un getter per i clienti e almeno un getter per gli insoddisfatti i setter non hanno senso perché questi sono valori che vengono calcolati dal simulatore e sono disponibili all'esterno quindi non ha senso che dall'esterno possano modificare forzare un valore diverso in queste due variabili e quindi abbiamo aggiunto i getter quindi vedete una certa simmetria per impostare i parametri definisco solamente dei setter e non ha quasi senso definire dei getter se invece per invece i risultati per restituire i risultati avrò solamente dei getter e non dei setter su queste variabili a questo punto possiamo partire con la simulazione vera e propria definendo il metodo run quindi simulazione vera e propria il metodo run sarà un metodo public void run che avvia la simulazione e la mantiene in vita in un certo senso mantiene vita cioè gestisce la coda degli eventi allora il metodo run sarà composto quasi sempre composto di due parti la prima parte è preparazione preparazione iniziale in cui in cui devo preparare sia le variabili del mondo e sia le variabili della coda di simulazione coda degli eventi devo impostare a un valore sensato le variabili che compongono il modello del mondo e devo predisporre all'interno della coda degli eventi gli eventi che dovranno essere simulati nelle slide avevamo indicato un metodo load events carica eventi iniziali come metodo aggiuntivo in questo caso gli eventi iniziali non li devo fare comunicare dall'esterno perché dall'esterno mi hanno già detto qual è la frequenza di arrivo dei clienti quindi questi metodi me li devo generare io conoscendo questa frequenza di arrivo e poi ci sarà l'esecuzione vera e propria del ciclo di simulazione simulazione allora la preparazione iniziale è molto semplice perché io dovrò impostare le variabili che costruiscono il modello del mondo cioè il numero di auto al valore iniziale quindi inizialmente il numero di auto sarà uguale a nc cioè il numero di auto totale che ci sono nel 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 deposito al mattino meno presto quando apro ho tutte le auto in deposito e poi dovrò ovviamente inizializzare a zero sia i clienti che gli insoddisfatti in modo che il conteggio di questa simulazione parta correttamente da zero questo così ho inizializzato il modello del mondo e i risultati calcolati a partire dal modello del mondo i parametri di simulazione non li devo resettare perché sono stati innanzitutto settati con un valore di default e poi eventualmente modificati dal chiamante quindi io non li devo più toccare perché hanno già il valore che il mio chiamante vuole devo invece a questo punto inizializzare la coda degli eventi la coda degli eventi in questo caso dovrà contenere tanti eventi di tipo arriva un nuovo cliente tutti cadenzati ogni dieci minuti a partire da quando a partire da che ora e beh ci siamo dimenticati un pezzo cioè noi abbiamo detto la giornata di lavoro ma quando inizia questa giornata e quando finisce a che ora iniziano ad arrivare i clienti a che ora finiscono e questo qua non lo sappiamo ancora non abbiamo deciso e quindi lo dobbiamo inserire tra i parametri di simulazione magari sono parametri di simulazione che non sono controllabili dall'esterno ma sono comunque informazioni che noi dobbiamo avere quindi possiamo definire magari anche come costante private const l'ora iniziale quindi local time ora apertura e quindi l'assegniamo visto che è una costante con un local time punto of ore minuti diciamo che apriamo alle 8 del mattino 8.00 cosa si chiama final scusate in java si chiama final e non const è un private final che è una variabile che non può essere più modificata local time ora chiusura che sarà un local time of diciamo che chiudiamo alle 17 per ipotesi quindi definiamo degli scenari local time con la i minuscola un intervallo di tempo che sono quelli che ci permetteranno di fare di creare gli eventi quindi gli utenti arriveranno tra le 8 del mattino e le 17 del pomeriggio intervallati da 10 minuti ciascuno questi ovviamente sono tutti parametri modificabili ma è meglio avere definiti come costanti a questo punto possiamo tornare sotto e creare gli eventi creo gli eventi facendo un loop in cui vado ad inserire essenzialmente questi eventi ogni 10 minuti eccetera eccetera come prima cosa vuoto la coda in realtà è già vuota però per sicurezza immaginando che il metodo RAM possa venire chiamato più volte magari le volte precedenti la simulazione si interrompe non perché aveva avuto gli eventi ma perché magari si è verificata un'altra condizione immaginiamo che qualcuno ci dica beh quando sono 10 utenti insoddisfatti chiudi tutto chiudi la simulazione perché è troppo e quindi non vale la pena di andare avanti ci fermiamo subito quindi non è detto non possiamo garantire a noi stessi al 100% che alla fine della simulazione precedente la coda sia vuota io quindi preferisco vuotarla una volta in più anche se è già vuota piuttosto che rischiare di partire a fare una simulazione con degli eventi che in realtà arrivano dalla simulazione precedente non partiamo mai con le strutture di sport che facciamo attenzione soprattutto se dobbiamo poi richiamarlo da un'interfaccia grafica che lo chiama più volte e a questo punto e poi inserisco gli eventi quindi avrò una variabile che mi local time ora ora di arrivo che la posso inizializzare a dis punto ora di apertura diciamo ok ipotizziamo che il primo cliente arriverà a quest'ora e faccio un ciclo in cui vado ad aggiungere un nuovo cliente fin tanto che finché l'ora di arrivo di questo cliente chiamiamola ora arrivo cliente così siamo più è più chiaro finché quest'ora di arrivo è minore ora arrivo cliente before is before dis punto ora chiusura e quindi ogni volta inserisco un nuovo evento che simula il fatto che una certa ora arriverà un cliente adesso siamo fermi al tempo zero in un certo senso e inseriamo gli eventi futuri dei clienti che arriveranno e quindi per ogni ora di arrivo cliente dovrò creare un nuovo evento event e uguale new event che richiede due parametri l'ora e il tipo l'ora ovviamente sarà l'ora di arrivo cliente e il tipo sarà event type punto new client quindi qui cosa ho fatto ho deciso prendiamo l'ora di arrivo cliente all'ora di apertura alle 8 alle 8 c'è già uno che arriva creiamo un evento che dice guarda che alle ore 8 arriva un nuovo cliente e poi ovviamente ci predisponiamo per l'evento successivo quindi in questo caso dovrò dire che ora arrivo cliente uguale ora arrivo cliente plus la edis punto tin più questa durata come vedete i metodi di java punto time sono molto parlanti essenzialmente scriviamo codice che è molto simile a quello che descriviamo parole quindi dopo che ho inserito l'evento delle 8 del mattino aggionerò ora arrivo cliente dalle 8 più 10 minuti cioè saranno le 8 e 10 il ciclo wide mi dice che queste 8 e 10 sono ancora prima dell'ora di chiusura e quindi ripeto il ciclo wide eccetera eccetera quindi questo è uno dei 100.000 modi per iniziare a popolare inizialmente la coda degli eventi questo in questo caso l'ho fatto nel metodo run in altri casi potrei decidere di fare questa inizializzazione della coda in un metodo separato soprattutto se è complessa o se la coda va inizializzata con criteri diversi però per ora l'ho fatta semplicemente così ah scusate poi ho dimenticato la cosa più importante ovviamente che questo evento è devo aggiungerlo alla coda punto add e quindi creo l'evento non basta crearlo ma devo poi aggiungerlo alla coda e poi ovviamente sposto l'orologio per poter creare l'evento successivo quindi alla fine di questo ciclo while avrò la coda che è riempita con tutti questi eventi scadenziati ogni 10 minuti e a questo punto posso partire con la simulazione vera e propria la simulazione vera e propria è basata su un grosso ciclo che estrae ad ogni ogni volta un evento dalla coda quindi un evento no scusate finché allora è punto q this punto q punto allora io devo ad ogni iterazione verificare se la coda è vuota o no se la coda non è vuota quindi se la coda non è vuota vuol dire che ho ancora degli eventi da simulare ricordiamoci quali sono i metodi qua dell'evento q abbiamo l'isempti ovviamente che mi dice se la coda è vuota o no abbiamo i metodi dunque dove sono sotto peak e poll poll estrae e rimuove l'elemento di testa della coda peak invece analizza ma non rimuove l'elemento della coda allora il poll direi che è l'elemento che ci serve di più ci istituisce un oggetto di tipo evento ma solamente se la coda non è vuota poi esiste anche l'altro remove ricordiamo che poi le remove fanno lo stesso lavoro ma uno dei due genera un'eccezione il remove e l'altro invece esiste semplicemente un valore nullo quindi differiscono solamente per questo piccolo dettaglio ma noi prima di tutto verifichiamo se non è vuota se la coda non è vuota occhio il punto interrogativo quindi finché la coda non è vuota allora vado a estrarre il mio evento chiamiamolo e dalla coda this.q .pol quindi con questo ciclo io vado ad estrarre gli eventi della coda prioritaria in ordine di data in ordine di tempo in questo caso di marcatura temporale perché in ordine di tempo ma perché l'oggetto evento che è l'oggetto con cui è stata creata la coda prioritaria ha un comparatore che appunto è basato sul time comparatore confronta sulla base del time quindi questo quello che mi garantisce è che l'estrazione il pole dell'estrazione dell'evento dalla coda prioritaria sarà esattamente in ordine di data in questo caso in orario della giornata in ordine di marcatura temporale e quindi è un evento questo evento può essere è uscito è arrivato un cliente oppure hanno restituito un'auto in questo momento nella coda ci sono solamente eventi del primo tipo ma in generale può capitare un evento di questi due tipi allora normalmente tutto questo lo governo con uno switch cioè mi chiedo vabbè a seconda del tipo di evento a seconda del tipo di evento che ricevo dovrò fare cose diverse può esserci il caso in cui ricevo il tipo ecco notate che se io faccio uno switch su get type che è una enumerazione quando sono nel case faccio contro spazio mi da già i valori delle costanti quindi sono sicuro e lui stesso controlla che io le abbia verificate tutte allora può darsi che sia arrivato un nuovo cliente oppure può darsi che sia arrivata un'auto indietro allora questo punto è tutto spacchettato io dovrò solamente qui dentro in mezzo o qui decidere che cosa fare decidere che cosa deve essere fatto in un primo caso cosa deve essere fatto nel secondo caso allora questa parte qui di elaborazione era quella che nelle slide avevamo chiamato un metodo process event non è una cattiva idea spezzare estrarre questa parte di elaborazione in un metodo separato perché questo rischia di diventare anche un po' lungo anche un po' complicato e non lo vogliamo mescolare con la logica di avvio ed esecuzione della simulazione perché altrimenti questo metodo run diventerà complicatissimo e diventa poi molto difficile sia da debagare che da capire quindi per comodità mia io definisco un metodo privato interno void process event evento e dove essenzialmente faccio questo lavoro quindi da qua tolgo questa parte la inserisco dentro e qui chiamerò il metodo process event a cui passo questo evento quindi l'esecuzione del ciclo di simulazione è veramente molto semplice se ho eventi in coda estrai il primo ed elaboralo e torna e ripeti finché ci sono ancora eventi in coda alla fine di questo se hai della pulizia da fare la dovrai fare altrimenti hai finito il lavoro perché poi vorrà dire che l'effetto collaterale di chiamare la process event avrà anche calcolato le variabili di risultato della simulazione stessa le variabili che l'utente voleva conoscere allora siamo dentro la process event quindi qui siamo più puliti qui tra l'altro abbiamo solamente una variabile evento che riceviamo quindi siamo anche tranquilli perché concettualmente l'elaborazione di un evento deve lavorare solamente su due informazioni lo stato del sistema e l'evento corrente senza avere altre informazioni come quelle che abbiamo usato per riempire la coda allora arriva un nuovo cliente se abbiamo un nuovo cliente cosa può capitare possono capitare due cose può capitare che ci sia un'auto oppure non ci sia allora questo come lo verifico lo verifico se il numero di auto ancora in in deposito è maggiore di zero vuol dire o almeno ancora un'auto in deposito da poter restituire a questo signore altrimenti cliente insoddisfatto non ci sono più auto se invece le auto sono maggiori di zero vuol dire allora cliente viene servito auto noleggiata allora la parte del cliente soddisfatto è facile perché se non ci sono auto e arriva un cliente come si modifica lo stato del sistema beh lo stato del mondo diceva che avevo zero auto e continuerò ad averne zero quindi non faccio nulla devo semplicemente ricordarmi di incrementare il numero di clienti arrivati e incrementare anche il numero di insoddisfatti arrivati è arrivato un cliente ed è un cliente insoddisfatto fine perché il modello del mondo cioè il numero di auto ovviamente non cambia se invece il cliente viene servito allora devo fare due cose che valgono in generale aggiornare il modello in realtà le cose in generale sono tre scusatemi aggiornare il modello del mondo aggiornare i risultati della simulazione ed eventualmente inserire nuovi eventi queste tre cose allora la prima cosa è aggiorna il modello del mondo e il modello del mondo significa che quest'auto è stata anoreggiata e quindi numero auto la decremento di uno seconda cosa aggiorna i risultati e aggiornare i risultati vuol dire che è arrivato un cliente in più e ovviamente non è insoddisfatto e quindi non conto gli insoddisfatti tre genera nuovi eventi genera nuovi eventi in questo caso deve generare l'evento di restituzione dell'auto devo restituire quest'auto quindi creerò un nuovo evento di tipo restituisci l'unica complicazione è quando verrà restituita quest'auto in quale istante di tempo verrà restituita quest'auto allora lo potrò fare calcolando mi diceva il testo un intervallo di tempo che può essere di un'ora o due ore o tre ore in modo casuale quindi avrò una durata una duration che può valere uno due tre ore in modo casuale quindi dovrò estrarre un numero casuale quindi un double mat punto random restituisce un numero casuale java.util.random un numero positivo compreso tra 0 e 1 in modo in modo uniforme in modo con uguale con uguale probabilità quindi io mi double numero uguale mat.random e qui ho un numero tra 0 e 1 0 compreso 1 escluso e quindi mi chiederò se questo numero è compreso tra 0 e 1 terzo allora diciamo che è un'ora se è compreso tra 1 terzo e 1 cioè 1 terzo e 2 terzi vale 2 ore se è compreso tra 2 terzi e 1 la durata sarà di 3 ore quindi abbiamo duration travel una variabile di tipo duration che assegniamo con uno di questi tre criteri quindi se il numero è minore di 1 terzo allora travel sarà una durata di 1 ora of 1 crono unit hours hours else se invece il numero è minore di 2 terzi allora avrò una durata di 2 ore 3 2 scusate ore e lo prendo da qua infine nell'altro caso travel avrà una durata travel avrà una durata di 3 ore e quindi qua in modo molto artigianale abbiamo tirato un dado abbiamo visto che il numero è uscito tra 1 e 3 su questo dado e sulla base di questo abbiamo deciso con uguale probabilità quindi 1 terzo 1 terzo 1 terzo di inserire un ritardo di 1 2 oppure 3 ore fatto questo semplicemente dovrò creare il nuovo evento quindi creerò un nuovo evento event nuovo uguale new event e il nuovo evento dovrà avere due parametri che sono il tempo e il tipo ovviamente il tempo sarà il tempo corrente più il tempo di viaggio quindi sarà il tempo corrente come lo prendo e.getTime plus il tempo di viaggio getRevel e il secondo parametro è il tipo di evento da simulare e il tipo di evento in questo caso sarà autoresituita quindi sarà event type punto carreturned quindi costruisco un nuovo evento nuovo che ha come marcatura temporale il tempo dell'evento corrente più un certo ritardo che ho calcolato con questo criterio questo criterio potrebbe valerne altri 10 insomma dipende poi dal simulatore non è sempre così però io in qualche modo devo sapere a quale istante di tempo voglio schedulare il nuovo evento e quindi devo sapere quanto dura l'attività che separa l'evento di auto uscita dall'evento di auto rientrata e ovviamente il tipo di evento che sto indicando è il numero che l'auto viene restituita una volta che questo evento semplicemente lo aggiungo la coda adesso qui sto facendo tutti i passaggi perché è la prima volta un'instituzione per volta ma normalmente si scrive q.add di new event direttamente qua nel codice ma per ora facciamo i vari passaggi uno per volta fatto è chiaro che anche questo si poteva semplificare perché bastava al posto di 1, 2, 3 mettere num per 3 e quindi prendere il numero casuale tra 0 e 1 convertire il numero intero tra 1 e 3 quindi num per 3 più 1 e scrivevo collassavo tutto questo in un'istruzione sola però all'inizio cerchiamo di fare i vari passaggi e direi che ho finito cioè le tre cose che devo fare in questo caso le ho fatte e in questo caso ho girato nuovi eventi in realtà anche nel caso di clienti soddisfatto dovrei considerare le tre cose aggiorno lo stato non ho niente da fare aggiorno i contatori sì l'ho fatto aggiungi nuovi eventi no non ce ne sono da aggiungere le tre domande ci sono sempre e qui abbiamo esaurito ciò che dobbiamo fare quando arriva un nuovo cliente e adesso vediamo cosa dobbiamo fare quando invece viene restituita un'auto beh quando viene restituita un'auto è molto semplice devo aggiornare lo stato innanzitutto prima mi chiedo quando arriva un nuovo auto devo fare qualcosa di di diverso esistono delle condizioni che mi portano a fare una cosa piuttosto che un'altra no direi di no se arriva semplicemente la metto in deposito quindi non ho una if non ho una condizione che mi va a distinguere i vari sotto comportamenti all'interno di questo tipo di eventi quindi dovrò sicuramente aggiornare il modello del mondo per dire che il numero di auto adesso sia incrementato cioè è rientrata quell'auto non devo incrementare e toccare il numero di clienti non devo incrementare e toccare il numero di insoddisfatti e non devo generare nuovi eventi perché il fatto che un'auto sia rientrata non mi scatena nulla successivamente però ovviamente questo incremento è importante perché mi dice che quell'auto c'è e quando arriveranno futuri clienti io potrò rinoleggiare la stessa auto ai clienti precedenti e questo essenzialmente conclude il nostro algoritmo di simulazione quindi abbiamo questo process event che riceve un evento e crea degli effetti collaterali quindi delle modifiche sullo stato sui nuovi eventi e sui risultati della simulazione allora speriamo che tutto funzioni bene magari per aiutarci mettiamoci qua dopo che è stato l'evento prima di elaborarlo un bel print line a scopo di debug visto che adesso ci stiamo apprestando ad eseguire il codice sperando che funzioni il print line ovviamente se metto il print line non sarebbe male che nel metodo nella classe evento aggiunga il to string ok e quindi mi stampi tranquillamente questo poi eventualmente lo personalizziamo non è solamente un messaggio di debug ok qui dobbiamo semplicemente modificare questi metodi perché non si chiamano così li abbiamo chiamati get clienti anziché get top clients e vabbè ho mescolato un po' di italiano e un po' di inglese e getting soddisfatti anziché get dissatisfied e a questo punto dovrebbe funzionare vediamo un po' cosa succede allora io prendo il mio test simulator che è qua e provo ad eseguirlo allora qui mi sta stampando a video tutto ciò che succede questa print che c'è all'interno portiamoci la console visibile contemporaneamente al codice che è qua questa è questa print che avviene all'interno dove siamo dentro il run ok siamo qua dentro questa print line è ciò che stampiamo sotto qui sono i vari eventi che ho estratto via via dalla coda quindi alle 8 arriva un nuovo cliente alle 8 e 10 arriva un nuovo cliente alle 8 e 20 arriva un nuovo cliente eccetera eccetera poi io qua non sto stampando non sto dicendo se questo cliente è soddisfatto oppure meno volendo lo potremmo anche stampare ma e poi vediamo che alle 11 viene restituita un'auto per la prima volta viene restituita un'auto probabilmente da chi l'ha presa alle 8 e l'ha tenuta per 2 ore scusate per 3 ore alle 11 e 10 è restituita un'auto alle 11 e 10 arriva un nuovo cliente alle 11 e 20 nuovo cliente alle 11 e 30 nuovo cliente auto restituita alle 11 e 40 e così via mi stupisce un po' che le auto siano sempre che la prima auto restituita sia alle 11 e tra le 8 8 e 10 8 e 20 non ci sia mai nessuno che ha restituita un'auto prima che l'ha tenuta solo 1 ora 2 ore quindi ho un sospetto ma andiamo poi a controllare e qui quindi si alternano i vari eventi alla fine mi dice che sono arrivati 54 clienti di cui 24 erano insoddisfatti il dubbio che ho che permettetemi di verificare è che questo travel certo certo vi faccio vedere perché system.out print line il tempo di viaggio vi faccio vedere quanto sono i tempi di viaggio che vengono calcolati sono tre ore questo è il modo con cui la duration viene stampata tempo tre ore p sta per periodo periodo di tempo t sta per time 3h sta per tre ore sempre tre ore ma perché sempre tre ore è perché io ho sbagliato questo codice un terzo l'ho scritto come divisione tra numeri interi e quindi 1 diviso 3 come divisione tra numeri interi dà come risultato 0 dovrei farla come divisione tra numeri reali e allora mi dà un terzo quindi qui non ho non avevo delle frazioni ma avevo semplicemente i numeri interi sbagliati adesso se io lo rifaccio molto probabilmente avrò vedete gli intervalli di un'ora gli intervalli di tre ore e da qualche parte ho anche le due ore ok quindi questo è un errore stupido di programmazione che però mi sbagliava completamente il simulatore perché di fatto con questo codice tutti i clienti tenevano l'auto sempre tre ore e mi mi falsava ovviamente il risultato ok riproviamoci adesso vedete che su 54 clienti 10 sono insoddisfatti mentre prima erano 24 mi sembrava un po' tanto rifaccio la simulazione mi dice che da 54 clienti 13 non sono soddisfatti è chiaro che questo numero varia questo numero varia perché il tempo per cui i clienti tengono le auto è diverso ecco qua vedete anche che alcuni clienti cominciano già a restituire l'auto alle 9 cioè il cliente che è arrivato per primo alle ore 8 ha deciso di tenere solamente un'ora e quindi l'ha già restituita alle 9 però probabilmente ci sono altri clienti che che la restituiranno più tardi e proprio quando servirà per nuovi clienti che è in arrivo 14 non soddisfatti lo sto eseguendo più volte 11 10 quindi sembra che questa cosa qua sta oscillando più o meno tra il 10 e il 14 con un valore medio che non lo so dovremmo eseguire un po' di volte per riuscire a calcolare ah c'è anche un 9 ha una certa distribuzione questo valore visto che il nostro simulatore ha una proprietà sottocastica il risultato che viene calcolato non è totalmente deterministico ecco se noi decidessimo che questi 10 insoddisfatti sono troppi ebbè allora compriamoci 3 auto in più oppure 2 oppure 5 quante auto in più mi servono vabbè proviamo a comprarne 3 in più e vediamo quanti sono gli insoddisfatti 3 4 3 3 5 quindi comprando 3 auto in più sono riuscito a far scendere il numero di insoddisfatti da un valore intorno al 12 a un valore intorno al 4 se è ancora troppo vabbè allora dovrò ancora acquistare delle altre auto 15 quindi vedete che chi sta facendo pianificazione ha uno strumento ecco 0 0 0 che gli dice guarda tu se vuoi fare un buon lavoro devi avere almeno 15 auto con questo modello con tutte le le approssimazioni di questo modello ovviamente però devi avere almeno 15 auto sei sicuro di non avere clienti insoddisfatti oppure vuoi risparmiare un po' di soldi allora ti entri solamente 13 auto e accetti che ogni giorno tra i 50 clienti che hai 54 clienti ci saranno 3 o 4 che non sono soddisfatti quindi avrai una percentuale di insoddisfazione che sarà non so dell'8% fatti tu i conti se ti conviene oppure non ti conviene chiaramente c'è un costo ad avere delle auto in più o un costo ad avere dei clienti insoddisfatti quali due sei più predominante non te lo dice l'algoritmo non te lo dice il simulatore sei tu che devi valutarlo all'interno del tuo business plan se vogliamo dire però qua è uno strumento molto semplice che ti può permettere di vedere che cosa succede al variare del numero di auto al variare della frequenza con cui arrivano i clienti poi possiamo complicarla molto di più perché possiamo dire che i clienti arrivano molto più spesso del mattino presto quindi si accumulano mentre il resto della giornata arrivano con intervalli di tempo più laschi e allora bisogna modificare il meccanismo di creazione degli eventi con cui arrivano i clienti qui tutto diciamo così è estendibile è ampliabile ovviamente abbiamo lo scheletro di qualche cosa che mi può modellare un sistema mi dà un risultato molto semplice con cui posso esplorare varie alternative progettuali se mi accorgo che le risposte che ho sono troppo semplificate andrò a rendere il modello più sofisticato quando nella lezione dicevamo che i modelli sono fatti molto su misura per rispondere a una domanda stiamo dicendo proprio questo partiamo con un modello semplice e poi voglio approfondire un aspetto voglio approfondire che ne so cosa succede quando gli utenti arrivano con una certa distribuzione allora andrò a modificare il modello per quello quindi è difficile avere un simulatore che vada in generale per rispondere a qualunque domanda risponde alle domande per le quali è stato pensato per le quali abbiamo inserito gli algoritmi giusti quindi questo ci dà già qualche piccolo risultato ovviamente poi converrà all'interno del simulatore andare a togliere quella stampa dove siamo nel run nel metodo run togliere questa stampa degli eventi perché ovviamente va a riempire l'output inutilmente e quindi ci stampa direttamente questo quindi al di là del singolo esempio che cosa abbiamo imparato abbiamo imparato a mettere in pratica quello che abbiamo visto in teoria nelle slide definiamo il cuore del simulatore è la classe evento che deve avere come minimo il tempo e il tipo in questo caso il tempo usato in local time altre volte userete local date quando dovete simulare nei giorni altre volte userete semplicemente un numero intero quando avete semplicemente una marcatura temporale crescente non vi interessa mapparla su un tempo reale dipende però sicuramente è una variabile che rappresenta il tempo una variabile discreta che rappresenta il tipo che quasi sempre converrà a usare un'enumerazione tanto per avere dei valori simbolici per comodità nostra e questo è metà del cuore l'altra metà del cuore è il metodo run il metodo run con la chiamata essenzialmente process event all'interno di questo loop questo loop è sempre uguale estraggo la cosa se non è vuota estraggo un elemento e lo elaboro eccetera ovviamente che cosa non è uguale è l'implementazione di questa process event che dovrà poverina gestire tutti i casi particolari in funzione dell'evento in funzione di cosa è lo stato in funzione eventualmente dei parametri di simulazione mi gestisco tutti i casi e per ciascuno di questi casi si fa queste tre domande come si modifica il modello del mondo visto che è arrivato questo evento e visto che lo stato si trova in queste condizioni come si aggiornano i risultati finali da restituire e come eventualmente generano nuovi eventi che saranno conseguenza dell'evento che mi è appena arrivato non in tutti i casi ci sono tutte e tre le casistiche ovviamente però le domande che mentalmente ci dobbiamo fare sono sempre queste tre per ciascun tipo di evento e per ciascuna ramificazione che può condizionare la modalità con cui l'evento viene gestito dal sistema questi sono i due cuori l'evento e il process event all'interno del ciclo di esecuzione il ciclo di lavoro sulla coda prioritaria sulla coda prioritaria non abbiamo nulla da dire funziona fa quel che deve fare ci restituisce gli eventi col poll in ordine e il resto è lavoro relativamente noioso di preparazione impostazione dei default delle variabili iniziali pulizia delle strutture dati caricamento degli eventi iniziali eccetera eccetera dove qua ovviamente ogni volta sarà fare in modo diverso non c'è una regola generale ma tutto sommato è ordinaria gestione preparazione di strutture dati l'algoritmo vero di simulazione sta nella collaborazione tra questo ciclo while il metodo process event e l'oggetto evento stesso che è quello che diciamo così gestisce il tutto per ora l'oggetto evento l'abbiamo tenuto molto molto semplice perché non ho altre informazioni ma nelle simulazioni successive vedremo che invece ci servirà a memorizzare anche informazioni non solo nello stato del sistema ma anche negli eventi che si accodano io spero che questo diciamo così primo esercizio vi possa essere risultato abbastanza chiaro ovviamente non abbiamo usato la parte di interfacciamento col database perché poi a volte invece gli eventi li vado a caricare dal database per andare a simulare qualche cosa che è successo quindi da qua possiamo ovviamente partire e crescere e vi possa servire diciamo così anche per affrontare gli esercizi successivi che saranno un pochino più articolati ma anche forse un pochino più interessanti per ora ho concluso e vi ringrazio alla prossima